dai leccalo leccalo è stompina cacata poi era una botta e la vede cura Alberto come si sta baciando la migliera dai dagli un bacio affettoso la migliera eh dai cuglione pescato ora si vuole da comune colpo hai visto? comune... la sfidiamo, non ne puremo non muore mai il posto gli occhi da gli occhi oi ci vuole essere sicca! il posto gli occhi non muore il posto gli occhi non muore si finisiva per noi muore muore pescatori d'oltreoceano no nemmeno li morti di dio e maggio domani mattina a nargia lavora per venire con noi siii i non c'avevo la parola parola li morti noi ehhhhhhh ehhhhh ehhhhh pippi va finito su facebook coglione eh ahahahah ma non mi tromare ricchiona coglione quando mi metto un facebook a casa stava come faccio mi metto a mare Grazie.